Rifondazione Comunista ha presentato un progetto di legge sul disagio abitativo in Abruzzo. Ascoltiamo il capogruppo Maurizio Acerbo. Oggi è la giornata nazionale di mobilitazione antisfratti indetta dall'Unione Inquilini e altre associazioni e ci è sembrato giusto portare anche il nostro contributo depositando una proposta di legge che prevede in base anche alla sentenza della Corte Costituzionale del 2008 e in assenza di iniziativa della Giunta regionale che non si occupa minimamente della questione di introdurre anche in Abruzzo ma in altre regioni, per esempio la Toscana la possibilità per i comuni di istituire commissioni sul disagio abitativo con tutti gli enti interessati e prefetture per gestire l'emergenza sfratti e rendere sostenibile la situazione gestendo il passaggio da casa a casa perché il problema degli sfratti in assenza di una politica per il diritto alla casa da parte del governo Berlusconi e ancora più del governo Monti non può essere gestita come questione di ordine pubblico ma è un problema sociale. Inoltre faccio notare che in questi anni tutte le misure sociali che c'erano sono state oggetto di tagli in più non vi sono investimenti per il dirancio dell'edilizia residenziale pubblica ci sono soltanto continue iniziative per dare premi di volumetria all'Italia ai costruttori ma l'Italia è il paese dell'invenduto perché oramai più case li costruiscono nemmeno ce ne sono per chi ne ha bisogno perché il mercato non riesce a offrire case a milioni di precari che non possono fare il mutuo o alle persone a basso reddito e tutto questo non può essere solo un problema di mandare la forza pubblica a cacciare qualcuno da casa o l'ufficiale giudiziario è un problema di affrontare con una serie di misure. L'unica misura finora di politica della casa di questa maggioranza che ovviamente forse anche per estrazione sociale non si rende conto dei problemi di tanta gente è quella di aumentare i canoni delle case popolari c'è una proposta di legge del PDL che porterebbe i canoni a cifre astronomiche e dall'altra una proposta del PD che va nella stessa direzione e noi condividiamo la posizione esprissa dal movimento inquilini mia casa Abruzzo guidato con la solita passione civile e competenza Piorapagna e da tutte le associazioni degli inquilini e ci batteremo anche con l'ostruzionismo contro queste proposte di legge che sono assolutamente insensate in quanto quello di cui abbiamo bisogno in Abruzzo è una politica complessiva per il diritto alla casa.